ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi riprendo in mano il discorso che abbiamo già fatto in un tutorial precedente ossia quello di ampliare l'accumulo delle power station soprattutto quelle che non sono espandibili ma non solo perché anche quelle espandibili magari tante volte la propria batteria nonostante abbia sicuramente delle funzionalità più evolute costa magari troppi soldi per quello che uno intende spendere in merito a questo aumento di accumulo quindi ci si appoggia sempre a soluzioni diciamo da fai da te cercando però di fare le cose un po con criterio quindi vi avevo fatto vedere l'accumulo esterno con una batteria da 12 ma oggi riaffronto lo stesso discorso con una batteria esterna live po 4 da 24 perché faccio un nuovo video perché sicuramente vi faccio vedere le differenze di comportamento con una batteria 24 volte e oggi nello specifico vi faccio vedere una batteria molto interessante di un marchio che si chiama teze power otti's power insomma non so bene come si pronuncia però ho trovato questo sito vende parecchia roba fateci un giro hanno diversi tagli hanno anche batterie a celle sciolte per realizzare impianti un po più particolari per chi è pratico oppure vendono queste che sono già fatte belle che chiuse escono con polo positivo negativo hanno il bms integrato questa batteria ha delle funzionalità in più per quello ve l'ho voluta far vedere perché ha il modulo bluetooth per controllarla tramite app ed esiste anche una versione wifi che però non era disponibile non l'ho presa inoltre questa batteria essendo una live può 4 quindi che patisce le temperature ha un modulo di auto riscaldamento quindi si scalda da sola però attenzione quando si scalda si scalda in temperature in un reggio compreso tra meno 20 e 5 gradi poi una volta raggiunti 10 gradi si ferma il riscaldamento questo riscaldamento interno lo gestisce in automatico ma funziona solo quando è sottocarica perché il circuito del riscaldatore è alimentato dalla sorgente esterna non dalla batteria stessa ok quindi non è che se la lasciate via al freddo da sola si autoriscalda no mentre in carica prende energia dal caricabatterie per portare sulla temperatura se ritiene sia necessario ha un'altra funzione interessante che quella dell'auto bilanciamento quindi se ne mettiamo 4 uguali in serie un parallelo fino a 4 gestisce in automatico e son sincero non chiedetemi come il livellamento delle batterie quindi per preservarla nel tempo e per garantire le prestazioni ottimali questo purtroppo non l'ho potuto verificare perché avrei dovuto prenderne un po troppe magari tra qualche anno se sarò un po più grande se continuate iscrivervi al canale non guardare i video senza iscrivervi magari riuscirò a crescere e lo stesso video lo potrò fare con quattro batterie capite bene che se me ne devo procurare invece una sola perché posso prendere quella sono più limitato grazie al suo bms interno fa tutto da sola quindi la usiamo esattamente come avevamo fatto con la batteria da 12 volt useremo un caricabatterie dedicato il suo che costa parecchio allora facciamo subito un ragionamento di prezzi questa batteria adesso vi lascio il link in descrizione riuscite a prenderla a 663 euro che comunque per essere una 24 volte un ottimo prezzo il suo caricabatterie costa 289 euro è un caricabatterie a 24 volt da 20 ampere tra l'altro quello che ho ricevuto io non è proprio identico esteticamente a quello che fanno vedere adesso sul sito ma è anche vero che ce l'ho da un paio di mesi è comunque caro non è detto che dovete per forza usare il suo ma come vi spiegherò dopo dovete però usare un caricabatterie specifico per life po 4 non vanno bene gli universali a mio modesto parere perché rischiate di fare danni rovinare la batteria o addirittura di rendere pericolosa la ricarica carica batterie specifico per life po 4 a 24 volt indicato per questo taglio di batteria da 100 per ora un 20 ampere basta il grosso ve l'ho detto quindi inizierei ad andare avanti col video e cerchiamo di capire meglio come si comporta con una power station nello specifico vi farò vedere come espandere ad esempio l'accumulo della mia bluetti e p500 pro che è una macchina pazzesca fantastica lo sapete ma che purtroppo ma comunque io lo sapevo ne ero consapevole all'accumulo limitato a 5 kilowatt non espandibile quindi perché non aggiungere altri 22 kilowatt e mezzo con una batteria spendiamo quasi mille euro e tanto sì però purtroppo se vogliamo comprare un accumulo se prendiamo il suo a patto che ci fosse costerebbe molto molto di più chiaramente gestirebbe tutto in automatico noi ci dobbiamo arrangiare però guardiamo sempre anche a come fare per risparmiare andiamo avanti col video spacchettiamo la batteria poi facciamo tutte le varie fasi vi arriva un collo da circa 30 kg io l'avevo già aperta perché non sapevo cos'era protezione superiore manuale che adesso analizziamo controllo di qualità in cinese questa batteria ad esempio è stata collaudata a dicembre 2023 diti e coperture e qui arriviamo alla nostra batteria live po 4 tez power da 25.6 volt 100 ampere questo adesivo è l'indirizzo del bluetooth perché questa batteria anche il controllo smart live po 4 25.6 volt 100 per ora garantita con un deep cycle dei cicli di carica fino a 4.000 cicli l'ottanta per cento dopo questi 4.000 cicli e ip65 quindi può anche stare all'esterno ross tutte le certificazioni del caso il vero marchio c'è e attenzione perché qui parliamo di un accumulo esterno smart che alla fine della fiera ci dà due kilowatt e mezzo di accumulo nient'altro da segnalare qui c'è il modulo bluetooth vedete che è un semplice modulino alimentato da una connessione micro usb che arriva dalla batteria nel sacchettino delle viti troviamo le due viti m8 con i cappucci isolanti e poi tutto il nostro manuale ci indica già i valori principali la tensione di ricarica ci spiega chiaramente come collegare viti e morsetti e ci dà tutti i parametri principali capacità nominale 100 per ora le tensioni l'energia il metodo di ricarica la tensione di ricarica la corrente di ricarica consigliata 20 ampere come il nostro caricabatterie il bms che da 100 ampere può avere un picco di scarica di 5 secondi a 280 ampere è un carico continuo di potenza di 2560 watt l'impedenza interna protezione ip65 19.6 kg misure in millimetri 5 22 per 240 per 218 qui abbiamo anche il range di temperatura quindi in carica normale da 0 50 gradi in scarica da meno 20 a 60 gradi più tutti gli altri come storage se non viene utilizzata consigliano di tenerla da un minimo di meno 10 a un massimo di 50 gradi nella realtà dei fatti le batterie live po 4 meno stanno al freddo e meglio è questo lo sappiamo per quanto riguarda invece una percentuale di stoccaggio diciamo che un 50 60 per cento se non viene utilizzata per lunghi periodi è l'ideale qui abbiamo possibilità di scaricare l'applicazione che lavora in bluetooth per controllare il bms qui abbiamo tutte altre informazioni che adesso non ci servono importante però abbiamo anche tutte le istruzioni di come costruire un pacco facendo delle serie dei paralleli ci spiegano comunque anche tutto quello che non vedremo nel video di oggi perché chiaramente noi adesso la useremo come backup esterno ma lei va benissimo per alimentare direttamente un inverter che prende il suo 24 volte come quello che avevamo provato tempo fa ora andiamo a collegarla iniziamo a metterla in carica vi spiego come gestire il tutto allora intanto vi faccio vedere che cosa ho fatto collegato al polo positivo un pezzo di cavo con un mc4 positivo e al polo negativo un pezzo di cavo con un mc4 negativo ora non guardate che sono due cavi rossi non guardate che non ho usato i capicorda è solo un esperimento per farvi capire poi chiaramente il collegamento va fatto possibilmente con cavo rosso per il positivo nero per il negativo e con dei capicorda ben dimensionati ben crimpati per essere tranquilli di quello che stiamo facendo poi cosa succede che noi ad esempio arriviamo in un punto dove abbiamo una power station come questa vedete io ho l'ingresso dei pannelli sta arrivando tensione tutto quanto ma lei non prende più dai pannelli perché sono le 10 22 e siamo già al 100 per cento quindi non abbiamo più la possibilità di sfruttare questa produzione che invece c'è e allora che cosa facciamo colleghiamo a una presa di uscita della power station il nostro caricatore e iniziamo a caricare la batteria il caricabatterie 24 volt fatto in questo modo con tutta questa struttura in alluminio per dissipare il calore ingresso 230 volt ventola di raffreddamento e led di segnalazione modello hd 600 watt carica a 20 ampere con un'uscita di 29 a 2 fatto apposta per le live po 4 tante volte mi dite amo ho visto un caricabatterie universale che fa piombo gel live po 4 no se volete tutelare bene una batteria live po 4 ci va un caricatore dedicato come quello che vendono loro direttamente il led funzionerà con luce rossa quando carica e luce verde quando ha finito di caricare da questo caricatore usciamo con le due pinze per i poli della batteria un cavo abbastanza lungo circa 60 centimetri pinze di buona qualità completamente rivestita in gomma con una buona molla e la parte interna in rame il cavo terminale a occhio e croce sembra un due e mezzo abbiamo poi la tradizionale spina di alimentazione sciuco con innesto 220 quindi abbiamo ancora un altro metro di cavo senza staccare i cavi con gli mc4 dalla batteria colleghiamo le pinze negativo e positivo colleghiamo al nostro caricabatterie colleghiamo una spina all'uscita della power station chiaramente abilitiamo l'uscita a c in questo caso il caricabatterie inizia a caricare diventa rosso purtroppo c'è la ventola di raffreddamento perché è necessaria perché lui tra un po' diventerà caldissimo quindi deve essere sempre raffreddato e vedete che siamo quasi a 80 decibel sta caricando la nostra batteria prelevando dal 230 volt ben 850 watt quindi cosa succede che tra un po' la batteria inizierà andare giù e ricominceremo a prendere energia dal fotovoltaico senza sprecarla intanto come da manuale possiamo andare a cercare l'app per gestire la batteria che si chiama smart bms esattamente questa con questo simbolo verde quadrato la installiamo ok applicazione installata la apriamo possiamo scegliere se gestire un dispositivo wifi da remoto o un dispositivo bluetooth stando diciamo nel raggio d'azione dei 10 metri del bluetooth chiaramente scegliamo un dispositivo bluetooth diamo tutti i consensi del caso non abbiamo nessun dispositivo impostato qua ci chiede che tipo di configurazione abbiamo se è una singola dei paralleli o delle serie noi in questo caso abbiamo una singola vedete che bisogna aggiungere un dispositivo viene già trovato il bluetooth che abbiamo di là anche se adesso sono a circa 6 o 7 metri diamo un nome e lo chiamiamo semplicemente teze torniamo indietro e vedete che siamo connessi ci dice che in questo momento il so che al 69.5 per cento dice che è in carica è una temperatura di 17 gradi che il mossa una temperatura di 10 gradi dentro in realtà abbiamo una stringa di otto batterie quindi sono otto moduli da 3,4 volte ci dà la singola tensione di ogni modulo vedete ci dà la versione della batteria al serial number è tutto qui abbiamo la possibilità di andare nei parametri di protezione vedete che ci fa vedere un sacco di cose molto interessanti abbiamo la possibilità di anche di variare le temperature di protezione il protocollo di comunicazione possiamo qua cambiare il nome possiamo anche abilitare la carica o la scarica verificare se è da aggiornare avere un reporting via email dello storico di quello che è stato fatto con la batteria possiamo tra l'altro aggiungere anche una password che può essere resettata da qui per i più smanettoni c'è sicuramente da divertirsi per chi vuole solo tenere sotto controllo la percentuale che è quello che farà il 90 per cento delle persone andiamo qui nella pagina principale vediamo che adesso è già il 70.3 così sappiamo a che punto siamo arrivati con la scarica o con la carica questo chiaramente perché stiamo facendo un uso normale di una singola batteria come backup esterno a una power station nell'uso di questa batteria in un impianto fotovoltaico chiaramente tutti questi controlli che riusciamo a fare sulle singole batterie diventano molto importanti per la gestione diciamo un po più avanzata dell'impianto ok adesso andiamo a vedere cosa sta facendo la power station rispetto all'impianto fotovoltaico come vedete la power station sta continuando ad alimentare la presa che alimenta dal caricabatterie che sta caricando il pacco esterno che sta continuando a tirare i suoi 800 e passa watt ma almeno abbiamo ripreso a prelevare energia dai pannelli che in questo caso me ne stanno dando meno di quelli che stanno uscendo poi tutto va dimensionato e calcolato in base all'impianto che avete realizzato alla power station che avete e a quello che avete come esubero di produzione ok ha finito di caricare vedete luce verde se andiamo a vedere il consumo siamo a zero adesso non ho ingresso fotovoltaico perché intanto l'ho staccato per caricare qualcos'altro quindi ora faccio andare un po giù la power station vedete che poi dopo un po si riattacca perché tende a tenere stabile la tensione di ricarica della batteria comunque adesso tiro un po giù la power station così poi vediamo come riusciamo a caricare con una 24 volte esterna bene quanto carica con questa sorgente esterna 24 volte carica a 200 watt 208 per la precisione io l'ho portata giù ho iniziato a caricare che era circa al 60 per cento è chiaro che se questi 200 watt sono inferiori a quello che il consumo in rapporto alla percentuale residua della batteria principale avete un'autonomia che potrebbe allungarsi più o meno e questo è ovvio no però è buono spiegarlo se io invece ho un carico che magari è 150 watt e ne faccio entrare 208 sono comunque in guadagno quindi la percentuale della comune interno alla fine della vita della mia batteria esterna sarà più alta semplicemente dovete stare più o meno su quello che è il consumo esterno altrimenti perdete troppo ma comunque anche se perdete troppo perdete 200 circa watt in meno perché stanno anche entrando ok alla fine il ragionamento è semplice e ne consegue che il tempo invece necessario a tirare sulla batteria interna con questi 200 210 watt dipende dalla percentuale residua e chiaramente se c'è o meno un carico in uscita ok finché poi arriviamo al 100 per cento di ricarica ci ha messo chiaramente un po perché caricava a 200 watt e vedete che l'accumulo esterno è arrivato al 6.7 per cento quindi è bello che è finito quanto ci mette a caricarla tutta ci mette 5 ore più o meno col suo caricatore da 20 ampere se fosse completamente scarica ci mette 5 ore e se facciamo i conti di quest'unità che ha 5 kilowattora di batteria e questo accumulo esterno che è 2 kilowatt e mezzo con le percentuali che eravamo più o meno quadra e quindi abbiamo espanso il suo accumulo di altri 2 kilowatt e mezzo e da notare che anche con la batteria scarica non siamo bassi di tensione quindi la power station riesce a prendere dall'accumulo esterno anche fino a portarla allo 0 per cento perché comunque la tensione sarà sempre di gran lunga superiore ai 12 volt in continua con cui parte l'ingresso dc che sarebbe anche fotovoltaico bene non abbiamo parlato prima di dimensionamento di cavi protezione eccetera vi ho fatto vedere che l'abbiamo collegata in modo un po così alla a mio cugino perché era solo un test per farvi capire come funzionava se voi mi chiederete ma che cavi devo usare devo mettere un fusibile eccetera vi dico che questa batteria caricherà la power station con circa 200 210 watt e quelli sono e quelli rimangono in questo caso perché sul 24 volt la macchina tira questa corrente calcolate che 200 watt sul 24 volt sono 8.7 ampere che fusibile mettiamo mettiamo tranquillamente un fusibile da 10 perché noi non dobbiamo andare oltre quella corrente se ci andiamo c'è qualcosa che non va quindi fusibile da 10 funziona su quale dei due fili lo mettiamo lo mettiamo sul positivo un solo fusibile sul cavo positivo e siete a posto che cavo devo usare per fare questo collegamento questa operazione calcolate che un cavo da un millimetro e mezzo porta 14.5 ampere quindi di cosa stiamo parlando io questa soluzione l'ho già proposta tanti di voi l'hanno già applicata e siete sempre spaventati perché mi dite ma negli altri video ho visto che quando collegano le batterie devono mettere dei cavi grossissimi certo perché dipende dalla corrente che passa se passano 100 ampere un conto se ne passano otto un altro in questo momento stiamo facendo passare pochissima corrente sono solo 200 watt volete proprio esagerare mettete un cavo da due e mezzo e ne avete da vendere ok quindi abbiamo visto che carichiamo a 200 watt abbiamo il grosso vantaggio che non abbiamo interruzioni di ricarica perché con le 12 volte se può capitare che andando giù di tensione magari l'MPPT della power station che è un po schizzinoso magari verso gli 11 taglia e non vi fa più prelevare dalla batteria con questa non abbiamo il problema perché comunque può scendere quanto vuoi può arrivare anche a zero ma la tensione sarà sempre abbondantemente oltre 12 volte questo un ottimo vantaggio però se siete stati attenti nel video abbiamo visto che ci mette più o meno 5 ore a caricare con un assorbimento del caricabatterie di 860 watt in 5 ore sono 4.3 kilowattora di consumo per caricare una batteria con accumulo da 2.56 kilowattora quindi direte c'è qualcosa che non quadra no c'è da calcolare l'energia che viene dissipata dal caricabatterie per fare questa operazione però visto che lo stiamo facendo per sfruttare una produzione solare che altrimenti non riusciremo a concretizzare possiamo dire chi se ne frega anche se nel passaggio perdiamo un sacco di energia l'abbiamo comunque prodotta e questo è quanto quindi abbiamo fatto questo esperimento l'abbiamo fatto con una 24 volte abbiamo visto che carichiamo molto più velocemente di una 12 tante volte si tenta di mettere magari due batterie da 12 in serie per ottenere questo risultato se lo facciamo con una da 24 probabilmente spendiamo meno poi dipende che batterie prendete eccetera però è anche logisticamente più facile da gestire potremmo farlo anche con una batteria 48 assolutamente sì se quello che andate a ricaricare accetta come tensione il 48 volt caricate ancora più velocemente è chiaro che le batterie da 48 costano di più i caricabatterie costano di più ma magari faremo un video con un test anche di una batteria da 48 questo è tutto volevo solo mettervi al corrente di quest'altra possibilità se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando che non costa nulla così ci procuriamo sempre più batterie vi lascio tutto in descrizione sono riuscito ad ottenere un codice sconto del 10 per cento che massi 10 è tutto scritto qua sotto compresi i link per prendere i prodotti quindi se vi cimentate nell'esperimento buon lavoro ci vediamo al prossimo video prossima diretta se passate qui in negozio vi offre un caffè grazie a tutti ciao da massi dattoli grazie a tutti grazie a tutti